Ciao a tutti, io sono Sharky, oggi siamo su un gioco chiamato Warframe, un gioco che parla degli alieni, che fightano, vabbè, vediamo com'è. In verità ci ho già giocato, ma poi mi ha rubato quel tizio l'account, bla bla bla, e vabbè, ho installato tutto, quindi non c'ho più progressi. Il figo di sto gioco puoi guidare sta roba mentre c'è il caricamento, ed è figo. Vabbè, voglio saltarlo, vabbè, lasciamo sta. Sentite i pulsanti come fanno. Vai, schippa, non voglio vedere il tuo video, schifoso. Vabbè, come fanno, schippa. Ci tocca, guarda, no. C'è un alieno che è nostro, tipo, potremmo personalizzarlo, dargli le armi, modificarlo un po' dall'aspetto. Vabbè, gli alieni sembrano fatti. Ho capito, non voglio vedere questo video. Ecco che casco. Aspetta, non mi ricordo bene, forse sono io che casco. Lascia il video. Io posso scegliere il mio robot, il mio weapon, l'alieno. A me piace sta roba. Conferma, vai. Conferma, vai. Conferma, vai. ma questo è bassissimo Sì il premio eletto lo so il bello che è saltabile come fa la scivolata vai vai la poncia son il è il il Questa attacca Questa attacca Questa attacca Questa attacca Aspetta che mi prendo la pistolina Mi piace il rallentatore Vai pistola Mi fido di te Anche se fuori la roba era più forte ma scelgo la pistola Questa attacca Questa attacca Questa attacca Questa attacca Vieni No! Me l'avete distrutta! Brutto! No! Questa attacca ha distrutto quello Questa attacca 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 Che lui camminava sui muri così E' Eccolo Vabbè Questo non è il Mondo vai 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 prendilo cos'è io sono un modo primitivo mi spettacolo un po' che c'è l'appletto o che c'è l'appletto? Eccolo ecco ... 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come va. va bene ahia, va bene va bene oh basta parlarmi voglio uccidere all'arsenale vai voglio usare l'arsenale prima me lo ricordo invece ho comprato questa eh vatti non ti voglio via via anche questo c'era, mi son preso questo schifo di arco va bene me lo ricordo benissimo mi son preso una roba tipo così ma che costava con i robe questo me lo son preso me lo ricordo vabbè ok 150 no 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 mi fa schifo e poi non c'è nemmeno soldi lì ok vabbè non posso più niente qui il compagno costava troppo scontatelo scontatelo il compagno scontatelo il compagno no 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 aspetta ecco era questa la mia schiena aspetta vorrei cambiarla subito dov'è dov'è eccolo secondario ecco io io l'ho scelto io l'ho scelto lo scelto aspetta il sario ecco questo era blu no no era questo blu si va bene questo lo scelgo blu questo lo faccio rosso no no mario l'arancione vabbè questo blu mi pie vabbè c'ho un po' di tosse l'energia lo so lo faccio lì blu il mio colore preferito vabbè vabbè no no il primario lo cambio l'ho fatto di un colore il primario vai rosso no dopo ore e ore gliel'ho così ci sta giusto me lo ricordo mi ero messo tipo un loro dove sto cambiumi il mio obiettivo è posso vederlo se non mi fai vedere l'anteprima almeno 10 no l'obiettivo è comprare questo quindi mi compro questo dopo un po' vabbè l'obiettivo è comprare questo e qua subito l'obiettivo è questo che me lo ricordo tipo lancio un colpo alla volta ma è figo l'anteprima attraverso settimana danni dov'è perché non mi dice vabbè non fa vedere i danni poi c'è un altro livello e basta livello 2 il bello è che puoi giocarci online con i tuoi amici ma il brutto è che i miei amici non li piace sto gioco quindi vabbè lasciamo stare è una ficata sto gioco se vuoi il bello è che puoi ucciderli ma si suonano l'allarme e dove sono? va bene lasciamo stare porta apriti non mi ricordo bene che dovevo fare ma ecco si faccio un po' il rallenti 30 crediti apritevi ma perchè sono l'unico che non sa dove si va c'ho una mira bellissima ok vabbè apriti vabbè so che ci serve sta roba cosa c'era qui ecco mi stavi aspettando tizio? tutto il silo ah c'era anche un'altra via va bene ho capito devo usare sta roba? no non ho capito e non devo nemmeno andare qui ho capito anche questo ok che ti dico però? Grazie a tutti Grazie a tutti Con l'arco non sono bravo ma va bene Pistola Sblocco tutto qui Va bene Non so che devo andare lì Non fai Ok mi arrendo vado via Non c'ho munito Sblocco tutto qui 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 Ok ora andiamo Sblocco tutto qui Sblocco tutto qui Sblocco tutto qui Sblocco tutto qui E vabbè Lasciate un bel like Iscriviti e iscriviti e iscrivetevi al canale E grazie per aver guardato i video E ciao a tutti